Una grande mostra europea, internazionale, oltre 100 artisti che ci raccontano la strada, la strada come luogo pubblico, spazio di protesta, riconciliazione, relazione, gentrificazione, la strada come spazio di creazione artistica. Una mostra importantissima, una mostra di ricerca, una mostra di cui sono certa si parlerà molto, una mostra piena di stimoli, di interrogativi, che utilizza tutti i mezzi, i media, dalle installazioni al video, alle performance, una mostra che fa entrare la strada dentro il Maxi e che consentirà al Maxi di uscire dal suo perimetro, dalle sue mura e di invadere questa città, di invadere Roma. La strada già nell'arte dell'inizio del Novecento è diventata un luogo importante, perché è diventata, cioè già con i daissi, era un luogo in cui avvenivano delle performance, insomma succedevano delle cose, ma è soprattutto a partire degli anni Sessanta che gli artisti sono massivamente usciti in strada per in qualche modo iniziare una relazione più stretta con la strada, perché attraverso la strada è possibile rappresentare la complessità e l'articolazione della realtà che ci circonda. iscriviti al nostro canale